Floridia evade dalla comunità San Patignano, vagava per la città, arrestato 36 anni. Avvagato per la città dopo essere evaso da una comunità terapeutica del nord, è andata male, un 36 anni a Floridia hanno scappato lo scorso 8 febbraio dalla comunità di San Patignano a Coriano, in provincia di Rimini, alla quale il tribunale di Serecusa lo aveva affidato in prova ai servizi sociali in regime di pena alternativa alla detenzione. L'uomo si era allontanato e nascosto dalla struttura senza dare spiegazioni, la sua assenza era stata segnalata alle forze dell'ordine per l'eventuale rintraccio. Carabinieri della tenenza del Floridia sulle sue tracce lo hanno sorpreso in una via del centro di Floridia ed è stato arrestato per evasione. L'uomo è stato condannato per violazione della normativa sugli stupefacenti commessa a Floridia nell'estate del 2022 e dopo un periodo di detenzione in carcere ha ottenuto il beneficio di scontare il resto della pena presso la comunità di San Patignano dove era ospitato dallo scorso dicembre. Tuttavia, nei giorni scorsi, il 36enne ha deciso di abbandonare la struttura del tornato a Floridia dove i militari lo hanno arrestato per evasione e posto ai domicinari come disposto dalla autorità giudiziaria Aretesea. Grazie. Grazie.